Il forum disuguaglianze e diversità è per me un punto di riferimento molto importante per riflettere sulle disuguaglianze nel nostro paese, per confrontarmi sul che fare, sui meccanismi che si possono mettere in atto sulle dimensioni che vanno toccate e coinvolte. È anche un gruppo di persone con cui, come Alleanza per l'infanzia, abbiamo cominciato a lavorare e anche a scrivere programmi, per cui fa ormai parte del mio orizzonte sia di riflessione sia anche di scambi di rapporti e persino di amicizia. Buon compleanno, forum disuguaglianze e diversità.